salve ragazzi benvenuto sul mio canale oggi parliamo del modulo partenza motore a distanza un modulo facile da installare è un modulo con cavi plug and play quindi anche facile da tirare via quando non ci serve un modulo che funziona per le macchine hyundai tucson dall'anno 2015 2017 e anche sul kia sportage vediamo cosa c'è nel pacco un pacco è arrivato così come lo vedete dentro c'è il modulo qualche fascetta per fissare il modulo i cavi io ce l'ho il cambio manuale quindi ce l'ho praticamente tre cavi uno è un cavo bd altri dei cavi che si collegano alla centralina del start e stop da specificare che bisogna avere praticamente una macchina che è il pulsante engine star stop ok che non è non facciamo partire la macchina con la chiave fisica questo è il modulo bd vedete plug and play e questi sono i due cavi quello che vi dicevo uno grigio e uno nero io ho avuto un po di difficoltà a capire come si collega perché vedrete dopo sul modulo quello del start engine praticamente sono tre connettori bianco nero e grigio e io provavo a inserire quello nero in quello nero della macchina ovvio però infatti era una cosa sbagliata perché il cavo nero va sul cavo bianco ok bisogna guardare guardare bene c'è tirare fuori praticamente tutte le tre secondo me così capite quello grigio funziona di sicuro e quello giusto poi nella versione di un cambio automatico qua c'è un altro cavo che io non ce l'ho con quattro pin quello del che da segnale al freno treno elettronico io ce l'ho manuale quindi non ce l'ho questo cavo qua vedete scrive anche qui Hyundai Tucson però funziona anche per chi ha sport però anno 2015 2017 per fare il settaggio perché mi è arrivata la scatola vedete subito che ci sono quattro connettori che sono numerati 1 2 3 4 apriamo bene la scatola senza rompere queste linguette ok a me mi era arrivato settato su 11 e 4 in giù in connettori che vi faccio vedere adesso e 23 in su invece adesso con vedete come vedete 1 2 e 4 sono in giù e la 3 bisogna essere stata penso comunque vi faccio subito vedere anche la schema la metto qua quindi 1 2 4 in giù e 3 in su questo è per il mio modello manuale 2015 2017 comunque se avete dei problemi contattate il cinese in un negozio che vende questo modulo praticamente è un modulo che fa partire il motore dalla chiave originale io adesso ce l'ho in questo video sto usando la chiave quella intelligente che lo che lo sto usando però funziona con la chiave originale della macchina questo è il cavo che va dentro qui con il connettore bianco che va dentro qui e poi ci sono gli altri cavi che saranno da connettere sul modulo del start engine come ho detto adesso andiamo alla macchina e vi faccio vedere come viene collegato questo modulo ok qui ce l'abbiamo la presa obd che viene connesso e adesso andiamo sotto per vedere dove sono i tre connettori di quale pallo praticamente si trova in cima al pedalo di freno ok questo è il pedale di freno un attimo che arriviamo e in cima eccolo qua vedete sono tre connettori bianco grigio e nero io all'inizio ho messo grigio con grigio e nero con nero provavo però col nero non entra quindi dopo tre giorni dico dai tiro fuori anche bianco vediamo però era quello quindi il nero va sul bianco grigio sul grigio adesso per un attimo perché non riesco a connettere a pari collegamenti ritorno con collegamenti già fatti e quindi vediamo quindi grigio sul grigio nero del modulo sul bianco della macchina che ho fatto il collegamento qui c'è la presa obd e plug and play ce l'abbiamo anche un'uscita per collegare una presa obd adesso collegato quello della chiave intelligente questo è il modulo collegato dopo intanto l'ho messo così con una fascetta dopo lo lo sistema dopo che faccio la prova vediamo un attimo quindi qui ho messo il connettore vedete quello nero nel modulo con bianco della macchina e quello grigio con grigio come vi ho detto si trova proprio sopra il pedano di per pedalo di freno inserito tutto bene adesso devo fare la prova per vedere se funziona tutto allora prima di far la prova all'esterno prima cosa dopo che abbiamo notato il modulo bisogna far partire il motore ok dal pulsante in macchina e così si fa collegamento tra la presa obd c'è il modulo installato il modulo della macchina dopodiché lasciamo come cielo manuale lo lascio sul neutro non in marcia ok freno mano tirato e vi faccio vedere il polio che l'unico polio che mi è arrivato con il modulo e questo è un bel disegno che io tanto da questo disegno non avevo capito come si monta come si installa questo modulo ho dovuto andare sotto guardare sotto le prese vi ho detto che oggi ho messo tre giorni però è facilissimo se loro spiegavano guarda che nero può darsi che non coincide con nero della macchina prova con bianco allora lo facevo in un attimo adesso con la chiave intelligente facciamo la prova quindi ho preso un po distanza dalla macchina facciamo la prova da questa distanza prima vediamo se funziona ho messo microfono anche sul cofano motore in speranza che si sente però comunque non si sente perché ho messo questo audio sopra quell'originale perché il video in originale era in lingua romena quindi chiudo la macchina schiaccio tre volte la macchina deve partire adesso la macchina in partita funziona adesso devo spostare un po più lontano per far la prova anche più lontano comunque non funziona come funzionano quelle dei allarmi delle macchine praticamente funziona senza sim quindi a un massimo di 100 metri dice il produttore adesso schiacciato tre volte il motore si ferma si può fermare il motore anche se schiaccio di nuovo tre volte o si apro la porta della macchina dopo 15 minuti si ferma da solo il motore adesso mi allontano un po facciamo un po più distanza proviamo di nuovo praticamente anche da questa distanza qui che ancora più lontano saranno 70 metri 50 metri 70 metri dalla macchina e facciamo la prova anche qua vediamo che va che funziona quindi il modulo l'ho acquistato da aliexpress ripeto funziona per i modelli 2015 2017 tucson e anche chi ha sportage 2015 2017 quelli che hanno il pulsante engine star stop e non partono con la chiave ok ho fatto partire il motore adesso questo è tutto quindi anche da questa distanza funziona buon siamo arrivati alla fine di questo video tutorial tutorial che l'ho fatto prima in lingua rumena lo vedete tutto integrale ho pensato di farlo anche in italiano che così magari qualcuno interessa i suoni del motore è solo un pezzo dove l'ho sentito sono riuscito a metterlo come audio per farvi sentire come si sente comunque io farò un altro tutorial lo faccio sempre in rumeno però dove farò di nuovo la prova con la chiave originale della macchina ok non con questa chiave smart che ce l'ho tutto questo perché ho ricevuto tanti messaggi in privato messengers facebook dove intanto mi chiedono se funziona con la chiave originale bisogna comprare con la chiave che l'ho usata io in questo tutorial no funziona con la chiave originale perché anche quella che l'ho usata è sempre la chiave originale funziona ripeto per l'ultima volta su solo su hyundai tucson e su kia sport e giano 2015 2017 su cambio manuale su cambio automatico l'unica cosa che deve avere sistema start engine quindi non far partire motore con la chiave fisica e far partire motore con il pulsante start engine vi aspetto per gli altri video tutorial che vi farò in futuro magari non saranno tanti che li faccio in italiano comunque seguitemi date un like distribuite questo tutorial e abbonatevi al mio canale se vi è piaciuto in futuro saranno anche altri tutorial con i moduli di genere quasi tutti avete quel modulo alza vetri il famoso modulo alza vetri però questo modulo partenza motore a me mi sembra molto comodo in in inverno lasciando accesa l'aria condizionata riesco a partire il motore della chiave anche in estate poi rinfrescare la macchina quando fa caldo per partire motore della chiave e per partire la macchina buon vi lascio vi aspetto su un nuovo tutorial che lo farò ciao ciao